A Petrolio, abbiamo appena visto insieme Io ci sono, la fiction dedicata a Lucia Anniba e la sua vicenda drammatica e qui con noi Lucia ci aiuterà questa sera a impaginare, grazie veramente Tra l'altro questo fiction ispirata da un libro che è scritto con Giuseppe Asano ha come sottotitolato La mia storia di non amore, ed è proprio il titolo del nostro programma, il non amore Che cos'è il non amore Lucia? Ma abbiamo scelto di aggiungere questo sottotitolo per spiegare quella che è stata la mia storia ma che può essere in realtà la storia di tante altre donne che si possono quindi identificare perché in realtà le dinamiche in queste storie, in questi rapporti sono più che altro quasi sempre le stesse e quindi raccontarla, condividerla può essere un modo per aiutare anche qualcun altro Adesso, a parte il racconto del tuo libro, la fiction, hai un lavoro importante che stai svolgendo insieme alla sottosegretaria Boschi, ti occupi proprio di pari opportunità Nel frattempo i numeri di questa battaglia, sentirai tra poco una poliziotta, parlai proprio di una guerra Una guerra a volte tra le mura di casa, sono drammatiche queste cifre perché sappiamo che ci sono state anche il 2016 149 donne uccise, tre quarti di questi casi succedono dentro le mura domestiche C'è tantissimo da fare nel nostro paese per cambiare, quali sono le cose più importanti che secondo te vanno segnalate subito? Allora io collaboro con la sottosegretaria ormai da un anno, da quando lei ha avuto la delega alle pari opportunità e tra l'altro la sua chiamata è concisa con il giorno dopo della chiusura del mio processo in Cassazione quindi da lì si è veramente aperta Abbiamo visto le immagini proprio in chiusura della fiction, no? Un'altra storia, sì Insieme in questo anno come insieme al Dipartimento per le pari opportunità abbiamo, questo non è un modo di dire ma abbiamo realizzato tante iniziative, realizzato anche tanti strumenti molto importanti, concreti ed efficaci soprattutto per riuscire a farci carico anche come governo in questo caso di queste sofferenze attraverso soluzioni che siano veramente applicabili e importanti Io conosco i numeri, naturalmente conosco ormai questo fenomeno, anche se a me non piace chiamarlo fenomeno credo però che sia molto importante, al di là dei numeri, al di là delle statistiche sempre trasmettere alle donne, quindi alle persone che soffrono una speranza e un coraggio quindi sempre incoraggiarle a chiedere aiuto e quindi sempre dire che in realtà le istituzioni ci sono, che sono a loro disposizione con gli strumenti che appunto ci sono propri perché questo diventa molto importante, costruire anziché distruggere devono assolutamente avere fiducia nel poter essere aiutate perché noi vogliamo che loro siano aiutate e che si diano una nuova possibilità, una nuova opportunità quindi al di là di ciò che forse troppo spesso ci si concentra su quello che non funziona in realtà tante cose funzionano, tante cose sono migliorate dal mio, dal nostro punto di vista e credo che sia molto importante comunicare anche questo certo, e allora iniziamo il nostro percorso Lucia con la nostra inviata Nuria Biuzzi che è andata proprio a raccontare sulla prima linea, là dove inizia e spesso inizia, queste drammatiche vicende iniziano con delle telefonate con la richiesta di soccorso insomma le donne più avvertite che chiamano la polizia in questo caso e vedrete con quali conseguenze guardate ecco Lucia Annibali questa è la prima linea di questa battaglia e queste parole sono molto forti da parte di coloro che non solo tutelano l'ordine pubblico generalmente ma che poi ci proteggono a volte dalle nostre stesse vicende personali queste parole che ricorrono come a volte è necessario chiudersi la porta alle spalle la preparazione psicologica, anche l'impatto che queste vicende che hanno a che fare con la vita delle persone hanno su questi uomini sì, vorrei dire che il protocollo EVA io lo conosco ho conosciuto anche Maria Iosè mi ha raccontato di questa procedura me l'ha descritta e oggi questa procedura fa parte del piano nazionale antiviolenza che come dipartimento abbiamo costruito quindi che contiene la strategia per i prossimi tre anni per il contrasto, la violenza sulle donne il protocollo EVA che è un importante e innovativo anche strumento di valutazione del rischio soprattutto in termini di recidiva e che ci permette anche per come è strutturato di conoscere più a fondo il fenomeno anche le persone che maggiormente vengono colpite questo è uno strumento specifico per le volanti ma in realtà il nostro obiettivo uno degli obiettivi del piano è quello di arrivare a costruire un modello di rilevazione del rischio che sia il più condiviso possibile tra le varie forze dell'ordine così da riuscire ad intervenire in modo tempestivo efficace e sempre più adeguato che è fondamentale il primo intervento diventa molto spesso fondamentale per il proseguo proprio della vita anche spesso delle persone che chiedono aiuto non hanno bisogno di aiuto e con noi Giusy Fasano che è una collega del Corriere della Sera ci ha aiutato molto in questa puntata Giusy nonché autrice, coautrice del libro insieme a Lucia Annibali allora Giusy diciamo questi uomini hai sentito queste parole le scene di battaglia di vita domestica questo è il fronte tra lo Stato e il reato quando si compie tra le mura domestiche tu segui da tantissimi anni queste vicende stiamo migliorando stiamo avanzando siamo un paese più evoluto stiamo sicuramente facendo dei passi avanti non siamo ai livelli dell'inizio io con l'inizio intendo il 2009 quando passò la legge sullo stalking all'epoca c'era una situazione decisamente diversa di passi avanti ne abbiamo fatti i dati purtroppo non ci confortano molto perché poi gli omicidi durante l'anno sono più o meno quelli salvo questa leggera affezione di quest'anno e quindi i dati non ci confortano però diciamo che in generale le persone sono più attente le forze dell'ordine come abbiamo visto hanno tutto un altro approccio rispetto a una decina d'anni fa soltanto è tutto molto come dire è andato avanti è un percorso che si sta facendo non è che non manchino le cose da risolvere le cose da fare tantissime ecco Lucia abbiamo sentito le forze dell'ordine citare varie volte i termini di legge cioè le norme che reggono il loro comportamento in generale e quello della società da questo punto di vista sono stati fatti molti passi in avanti tra pochissimo andiamo dalla sottosegretaria alla presenza del consiglio che con delega alle pari di opportunità Maria Elena Boschi qual è il punto importante qual è il chiavistello che secondo te è importante segnalare da questo punto di vista? ma io credo che da un punto di vista legislativo i passi avanti siano stati tanti la legislazione attuale sia abbastanza buona la cosa importante è naturalmente applicarla con efficacia e questo vale un po' per tutti gli strumenti e per tutte le azioni credo anche che comunque questo parlare parlare di queste storie abbia fatto sentire ancora di più la responsabilità in chi se ne deve occupare ecco in prima linea di occuparsene in modo adeguato quindi anche da un punto di vista della formazione diciamo professionale ma anche umana perché poi è importante avere il giusto approccio quando si raccolgono queste storie abbandonare anche un po' gli stereotipi sospendere il giudizio ed essere invece accoglienti nei confronti di questo dolore che arriva dopo un percorso lunghissimo quindi la scelta anche di chiedere aiuto di affidare la propria storia nasce molto prima e quindi è importante saper accogliere questo affidamento con umanità sei avvocato oggi lavori con lo Stato per lo Stato quanto è difficile trasformare le idee questa è una cosa che riguarda in generale la politica quando la società civile si avvicina al palazzo poi spesso rimane sconcertata la difficoltà secondo te? sì i tempi sono a volte un po' lunghi è anche vero che per fare le cose fatte bene ci vuole il giusto tempo noi come dicevo abbiamo iniziato questo lavoro sia per realizzare il piano antiviolenza ma anche quest'altro importante documento che sono linee guida nazionali per il pronto soccorso per le donne che accedono appunto al pronto soccorso vittime di violenza che speriamo ecco trovino all'interno del pronto soccorso un percorso loro dedicato ci abbiamo lavorato praticamente un anno e pochi giorni fa abbiamo raccolto i frutti di questo faticoso ma veramente molto molto importante lavoro perché si è conclusa ecco diciamo un po' la fase amministrativa quindi hanno passato tutti i vagli necessari e quindi saranno e diventeranno realtà e noi che abbiamo dedicato tanto tempo e sacrificio per il bene ecco degli altri perché alla fine questo poi è il nostro lavoro il mio lavoro attuale siamo molto contenti molto orgogliosi soprattutto ecco di poter dare strumenti in più a chi purtroppo ancora soffre in difficoltà grazie Lucia Niva grazie veramente tantissime le tue parole quando hai chiuso il processo ce le puoi ripetere? il meglio arriva sempre il meglio arriva sempre sono quelle parole che insomma dette da lei valgono veramente tantissimo per tutti noi diciamole anche alle donne che ancora soffrono che il meglio può arrivare anche per loro bene grazie grazie